Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. In Fipilli restano code a tratti per traffico tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. In carreggiato opposta tra Ginestra e Montelupo si è da poco verificato un incidente e possibili rallentamenti. Siamo al traffico urbano di Firenze per i cantieri per la tramvia, restringimenti in Viale Belfiore fino al 28 febbraio in orario 21.6. In chiusura segnaliamo che per la giornata di oggi, giovedì 23 febbraio, è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo. Lo sciopero avrà una durata compresa tra 4 e 24 ore. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!